A rischio chiusura la mensa scolastica per i bambini delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria Montecorvino Pugliano. Con una lettera indirizzata al personale scolastico e ai genitori degli alunni, la dirigente dell'istituto comprensivo ha comunicato mercoledì di aver ricevuto dal comune un avviso di interruzione del servizio a decorrere dal prossimo 7 dicembre per esaurimento dei fondi impegnati. Nelle ore successive si è scatenata l'indignazione dei genitori dei piccoli che distribuiti in quattro plessi di scuola dell'infanzia ed uno di primaria usufruiscono del servizio in almeno 170. Immediata è stata la reazione del preside Mirra che già nella mattinata di mercoledì ha chiesto un incontro con il commissario straordinario Mauro Passerotti che dirige il comune dallo scorso mese di luglio.